Cari amici, Bergoglio è sempre più simpatico, devo dire. Perché? Perché continua a insultare Iunacum e questi, come i bambini grassi a scuola, si fanno picchiare ma abbozzano sempre, non reagiscono mai. Infatti guai a mettere in dubbio la legittimità di Bergoglio. Allora, nell'udienza generale in piazza San Pietro, ieri antipapa Francesco ha detto quanto segue. Ascoltiamo insieme queste meraviglie. Perché un cristiano scontento, un cristiano triste, un cristiano insoddisfatto, o invece ancora risentito, il rancoroso non è credibile. Questo parlerà di Gesù, ma nessuno ne crederà. Una volta mi diceva una persona, parlando di questi cristiani, ma sono cristiani con faccia di bacalà, cioè non esprimono niente, sono così. Il Vangelo non è un'ideologia. Il Vangelo è un annunzio, è un annunzio di gioia. Le ideologie sono frede tutte. Il Vangelo ha il calore della gioia. O annunziamo Gesù con gioia o non lo annunciamo, perché un'altra via di annunciarlo non è capace di portare la vera realtà di Gesù. Ecco, Iunacum si sono fatti dare anche della faccia di bacalà. Perché? Perché sono loro quelli scontenti, tristi, insoddisfatti o, peggio ancora, risentiti e rancorosi. E quindi giustamente parlano di Gesù. Ma nessuno gli può credere. Il Vangelo non è un'ideologia, è un annuncio di gioia, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che Bergoglio utilizza questo mezzuccio per dare addosso ai conservatori tradizionalisti, i quali stanno facendo un piagnisteo continuo da diversi giorni. E infatti ha ragione Bergoglio. Sono credibili questi qui? No, che non sono credibili. Ma, certo, Bergoglio non parla della sua credenza personale, perché lui non crede nel Vangelo, quello cattolico. Lui ha tutta un'altra spiritualità. Però questa cosa che dice sul fatto che i cristiani non possono essere tristi, risentiti e rancorosi, è perfettamente giusta. E infatti, infatti, voi che siete in contatto con la realtà oggettiva dei fatti, e avete capito che Papa Benedetto non ha mai abdicato, ma si è offerto alla sua detronizzazione, la siete impedita, siete gioiosi, siete sollevati. Tantissime persone mi dicono, grazie dottore, perché quando ho letto il libro Codice Ratzinger, ho capito finalmente che Bergoglio non era il Papa. Io intuivo questo, non mi stava simpatico, non mi piaceva, vivevo questa cosa con senso di colpa, lo dicevo al mio confessore. Adesso ho capito che finalmente non è il Papa. E quindi mi si solleva l'animo, mi si solleva l'animo, e gioiosamente, gioiosamente, questo popolo di soldati e di Papa Benedetto sta combattendo la sua battaglia millenaria. Siamo arrivati a 12.600 firme per la petizione. Mi raccomando, firmate, 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 e fate firmare. La petizione è l'unica cosa che voi potete fare per manifestare non solo il sostegno ai cardinali autentici che si spera interverranno presto, ma anche per notificare alla Chiesa Cattolica questa nullità delle lezioni di Bergoglio. Quindi io noto che tra le persone che mi scrivono, le persone che collaborano con me volontariamente, c'è sempre il sorriso, c'è sempre la gioia, il divertimento, l'ironia, le risate continue, le vignette che poi il professor Viglione mette agli atti e poi faremo i conti con questa vignetta, capirete? Hanno detto i triari a 3-7, adesso poi noi un giorno gliela faremo pagare per la vignetta dei triari a 3-7. Mi sembra un po' deboluccia, diciamo, per una querela, una cosa del genere. Comunque vedo tanti che mi scrivono divertiti, gioiosi e entusiasti di aver firmato, di aver collaborato, di aver dato il loro contributo, chi conosce una lingua straniera e fa le traduzioni, quello che posta su un canale Facebook, sul suo gruppo Facebook l'articolo, quello che fa il montatore, quello che fa il traduttore doppiatore, quell'altro che aiuta facendo le vignette satiriche, vediamo per esempio le ultime di Satilix, ma anche le altre molto efficaci di Salvatore. Ognuno dà il proprio contributo, secondo quelle che sono le proprie capacità, il proprio tempo, le proprie energie, le proprie competenze. È una impresa gioiosa la nostra, la gioia principale è capire che non si sta vivendo la tragedia di un Papa diavolo, di un Papa eretico, di un Papa che è una croce, di un Papa che è un castigo di Dio, ma di un antipapa, che tutte queste cose. E quindi questo fa risaltare la luce di Papa Benedetto. Lo stesso Santo Padre concludeva il suo libro postumo, che cos'è il cristianesimo, chiosando con questa frase. Ringrazio Papa Francesco perché ci mostra che la luce del Signore non è tramontata. Ovvio no? Solamente le tenebre possono mostrare che la luce esiste e che non è tramontata. Il sorriso, i tanti sorrisi, se non addirittura le vere e proprie risate che ci ha fatto fare Papa Benedetto con i suoi codici Ratzinger, quando dice sì la veste bianca era la cosa più pratica, oppure quando dice ai Cardinali Bergogliani vi raccomando la fedeltà al Papa, senza spiegare quale ovviamente. C'è una vena di umorismo, di sorriso, di gioia in tutto questo, anche se c'è la preoccupazione, giustamente no, di come possa andare a finire, dei tempi, eccetera, ma la percezione di base è quella di avere già vinto e che la controparte sia spacciata. sia spacciata. Ecco, invece quelli che hanno la faccia da baccalà sono tutti quei prelati unacum e quegli intellettuali, commentatori, osservatori unacumisti che si stracciano le vesti, che vivono una dissonanza cognitiva, che non riescono a capire, che non vogliono capire, che non possono capire se no perdono le loro rendite di posizione e quindi hanno la faccia da baccalà. Giustamente, non sono cristiani, non sono credibili, perché non hanno nessun contatto con la verità oggettiva dei fatti. Quindi, chi rifiuta la verità, come può dirsi cristiano se Cristo è verità, vita e via? Ecco. Quindi, caro Bergoglio, i veri cristiani hanno la gioia di dichiararti guerra totale e senza quartiere. Ecco, lei ha fatto questo meccanismo veramente patetico da PNL al primo anno, di associare questo concetto dei cristiani tristi con la faccia da baccalà, rancorosi, eccetera, alla preghiera per la pace. Lasci perdere la pace quella in Medio Oriente. Noi siamo qui a portarle una guerra totale. Noi siamo qui per distruggere tutto quello che lei ha fatto dall'inizio alla fine. Ma non siamo noi. Diciamo, aiutiamo il vicario di Gesù Cristo, Benedetto XVI, in questa opera per annullare, annichilire, atomizzare tutto quello che lei ha fatto dall'inizio del suo antipapato. Una bella soddisfazione, eh? Vedere che tutto quello che si è costruito faticosamente in dieci anni, crollerà miseramente come un castello di carte. Francesco passerà la storia come l'ultimo antipapa, eh? Dei tempi contemporanei almeno, e tutto quello che lui ha fatto sarà distrutto e la Chiesa sarà purificata e un sacco di gente sarà buttata fuori e mandata a zappare l'orto. Perché non è credente, non crede nella Trinità Cattolica, ma crede in tutt'altro. Quindi la nostra gioia è questa, il fatto di sapere di aver già vinto e il fatto di sapere che anche se non vinceremo o anche se non vedremo la nostra vittoria, noi abbiamo fatto il nostro dovere di patrioti e o di cristiani. Quindi questa è la nostra gioia, il sorriso è sul nostro volto, noi non abbiamo la faccia di baccalà perché siamo qui a distruggere tutto quello che di malefico e di dannoso lei ha fatto. Bene cari amici, sempre con il sorriso e ringraziando tutti gli organizzatori delle conferenze, vi aspetto il 18 a Sassari, il 19 a Cagliari, il 22 a Castellaneta, il 23 a Bisceglie, il 25 a Civitanova Marche, il 3 ad Asti, l'8 a Dicembre a Rovereto, a Merano il 9. Un caro saluto a tutti e mi raccomando sorridete, sorridete, sorridete. Grazie.